Ciao a tutti, sono Giovanni Blanco, ringrazio gli amici e gli organizzatori della Biennale del disegno di Rimini per l'invito. Volevo condividere con voi alcune parole che ho scritto nel 2016, proprio in occasione di un'edizione della Biennale che aveva per titolo Profili del mondo. Nella stessa ero presente anch'io come artista, e così scrivevo. Il disegno è il primo incontro con la mano, l'azione che prolunga la voce. Il disegno impugna il fuoco per sottrarlo al caos. Il disegno anticipa le parole e i gesti. Sai intrattenere il demone spingendolo fino al bordo delle cose. Il disegno, nell'annunciare la luce, abbonda di tenebre. Il disegno gonfia il pozzo dei ricordi e allaga i sensi. Nessuna storia è stata dimenticata nella somma dei pensieri amati. Ora si incendia nel mio cuore la grafite che ha tracciato il mondo. Ecco così, volevo augurarvi a questo punto una buona rinascita che sia in qualche modo feconda di una prospettiva e di una cura che forse prima di questo difficile momento avevamo trascurato. Grazie e a presto!